Fai la pasticcera. Avrei voluto aprire la pasticceria. C'ho dei casini a casa. Ma scusa, lo sai che poco poco che mi capita sotto Filippo dello castiglio. Dormi. Sai, è quasi l'uomo. Vieni prima che tu vale per sé. Lei deve pretendere di vivere in un mondo migliore. Non si accontente di sopravvivere. Non si accontente di sopravvivere. Non si acc enferma io necessarily mi piace così. Vieni prima che tuo cibo ugualisé. Successi passare sul cibo. Non si accontente di sopravvivere Non si accontente di sopravvivere. Non esitante di sopravvivere. Non esitante. Non eutindi così come si redeem. Non è un sottiscono rispetto a un show. Grazie a tutti.